La Corte dei Conti scrive al Comune di Caltanissetta il tema, alcune eccezioni che riguardano il debitoato, che è una delle poste in bilancio comunale e l'amministrazione è stata diffidata ad inserire tutte le modifiche suggerite nel prossimo bilancio. L'approvazione dovrà passare dal Consiglio, dall'invio della nota da parte dei giudici contabili e dunque 60 giorni. Il Comune di Caltanissetta ha rinunciato al contenzioso per pagare i debiti ed appianare il debitoato. I revisori dei conti avevano dato parere sfavorevole su un punto, ovvero la mancanza del principio di sussidiarietà, ed anche in questo caso hanno scritto i giudici contabili. Tra le eccezioni la mancanza di motivazione per la quale l'aggiunta Gambino non avrebbe seguito le indicazioni della giudilincense che era stata commissionata dall'aggiunta Ruvolo al professore Stagno dal Contres.